Radio Più Roma presenta Statuario e le sue reliquie a cura della parrocchia Sant'Ignazio di Anchiochia. Nel nostro bellissimo quartiere di Statuario troviamo una casa delle suore di Gesù Redentore. L'opera di Gesù Redentore è sorta ad Avrance in Francia nel 1865 per opera della madre Maria Giuseppa di Gesù al secolo Victorine le dieu de la Rondé. Victorine nasce ad Avrance in Francia il 22 maggio 1809 e discende da nobile famiglia. L'infanzia di Victorine è serena e felice, in lei la bellezza, la poesia e la bontà si fondono profondamente. Suo padre la definisce un bocciolo. La professione del padre, un funzionario amministrativo del demanio, costringe la famiglia a continui spostamenti che hanno il merito di moltiplicare i contatti umani ed allargare gli orizzonti mentali della ragazza. A 12 anni, ricevendo la prima comunione, sente il desiderio di appartenere solo a Cristo e tale impulso interiore che cresce nel tempo si fa sempre più profondo. Il suo spirito è costantemente interpellato dalle miserie umane e spirituali e di fronte ad una società materialista, ingiusta, discriminante, le si riavviva il bisogno di spendere la sua vita nel silenzio e nella preghiera. Ma la famiglia non è dello stesso parere. I genitori l'hanno fatta studiare, ha un'ottima posizione sociale e non accettano assolutamente l'idea di vederla seppellita in un monastero. Nel 1830 in Francia il popolo è insommossa ed una rivoluzione insanguina il paese. Vengono commessi sacrileghi attentati alle chiese e l'animo sensibile di Victorin sente il bisogno di un'immensa riparazione. Da quel momento Victorin, sull'esempio di San Paolo, vuole farsi tutto a tutti per conquistare tutti a Cristo. Gloria a Dio solo diventa il suo motto, sia fatta la volontà di Dio, il suo ritornello frequente come il battito del cuore. L'opposizione dei genitori e poi il dovere di accudire il padre rimasto vedovo le impedirono in gioventù di abbracciare la vita religiosa. La stanchezza, il clima, le contraddizioni influiscono negativamente anche su di lei. Ridotta in fin di vita, chiede di recarsi in pellegrinaggio al santuario della Madonna della Salette e lungo il tragitto i sintomi del suo male scompaiono. Ai piedi della Vergine in lacrime trova luce e forza. Nostra Signora della Salette la conferma nel suo ideale di riconciliazione. Passando per Ars incontra il santo curato. Jean-Marie Vianney e Victorine entrano in sintonia spirituale. Il santo la rassicura, l'opera sarà benedetta più di quanto si possa immaginare. Il 1860 sarà un anno decisivo per Victorine. Anche il padre raggiunge il cielo ed è libera di consacrarsi totalmente al Signore. Ha 51 anni, non è più giovane ma conserva l'entusiasmo di quando ne aveva 20. Anzi ha cresciuto dalla maturità raggiunta. La lunga attesa, le molteplici prove non hanno mai affievolito la chiamata del Signore in lei. Riparare, riconciliare gli uomini con Dio, restaurare l'unità nell'amore, servire con animo umile i fratelli, particolarmente quelli disgregati dal peccato, dall'emarginazione, dalla povertà, diventano i grandi valori per i quali impegna tutta la sua esistenza. Questo carisma, questo specifico dono che Dio le ha fatto non può limitarsi a lei. Ci vogliono altre persone che con lei e come lei vivano nel corso dei tempi. Inizia una famiglia religiosa riparatrice, le suore di Gesù Redentore. Tornata in Francia nel 1864, si uniscono a lei alcune giovani con le quali inizia l'adorazione riparatrice. L'anno successivo, la piccola comunità si trasferisce a Mont Saint-Michel, dove ai piedi di una bellissima abbazia apre una casa in cui si istituisce l'adorazione ed accoglie i bambini poveri e abbandonati. Lì, il 19 marzo 1866, Victorin si consacra pubblicamente a Dio con i voti di castità, povertà e obbedienza, prendendo il nome di Suor Marie Joseph de Jesus. Ben presto sopraggiungono prove, persecuzioni e tradimenti, ma l'apostola di riconciliazione non si arrende con l'unico desiderio di poter realizzare il grande ideale che porta nel suo cuore. Il 31 maggio del 1881, Victorin lascia la Francia per sempre e si trasferisce a Roma. La sua fede incrollabile vince, i successi si moltiplicano, i bambini vengono accolti nella sua casa e presto si uniscono a questa povera e stanca vecchia, giovani piene di entusiasmo. Ma la sua salute vacilla e il 26 ottobre 1884, Victorin termina la sua vita terrena per intraprendere l'adorazione perpetua in cielo. Sepolta a Roma nel cimitero del Verano, nel 1960 il suo corpo è esumato e traslato nella cappella della casa Generalizia delle Suore di Gesù Redentore a Fonte Nuova, Roma, in seguito a numerose guarigioni e grazie attribuite alla sua intercessione, si è iniziata la causa di beatificazione, ottenendo l'8 maggio del 1992 il decreto di validità del processo.